L'auditorium Vincenzo Gioia della sede della Giunta Regionale dell'Aquila ha ospitato questa mattina la conferenza stampa del Presidente della Regione Marco Marsiglio per presentare la seconda fase della campagna vaccinale, una campagna vaccinale che partirà nella giornata di mercoledì. Soddisfazione per la Regione per quanto concerne proprio il numero di cittadini abruzzesi vaccinati che pone l'Abruzzo ai primi posti in Italia. L'Abruzzo è tra le primissime regioni in Italia rispetto alle dosi che ci sono state fornite e questo dimostra che abbiamo una macchina organizzativa capace di affrontare la sfida e di essere in grado di rispondere all'esigenza di salute e di sicurezza dei nostri cittadini. Con l'attuale programmazione di distribuzione delle dosi, che è la programmazione nazionale, noi di conseguenza ci regoliamo e quindi come è previsto anche dal piano nazionale raggiungeremo quell'obiettivo nel mese di settembre. Vorremmo tutti sperare che la produzione di vaccini aumenti e che nuovi vaccini arrivino in tempo utile per poter accelerare e arrivare magari con diverse settimane di anticipo a quell'obiettivo e già per l'estate poterci dichiarare, non dico covid free, ma insomma sostanzialmente fuori dall'emergenza e dalla fase critica. Come ha spiegato l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri, si partirà mercoledì e i primi ad essere vaccinati saranno i fragili e i disabili. Un'organizzazione che si progetta su due basi fondamentali, sia da un punto di vista gestionale, ossia di strutture su tutto il nostro territorio, sia nella forma AB che SPOC e soprattutto delle unità mobili nel momento in cui ci dovesse essere bisogno e la presa in carico di tutti i nostri pazienti da parte dei medici di medicina generale, da parte dei farmacisti, odontoiatri, dei medici dello sport. Quindi un'ampia convergenza da parte di medici e specialisti per portare avanti questa campagna. Una campagna che parte da mercoledì e che è finalizzata a vaccinare prevalentemente come primo step, come primo gruppo, le persone disabili e poi le persone fragili. I vaccini che non sono stati utilizzati nei giorni scorsi verranno recuperati? Sì, i nostri vaccini sono già tutti recuperati perché devo dire che nella nostra regione c'è una grande adesione, aderenza anche al vaccino che è stato sospesso negli ultimi giorni. Soddisfatto il presidente dell'associazione Carrozzine Determinate, Claudio Ferrante, che questa mattina ha seguito qui all'Aquila la conferenza stampa, sottolineando l'importanza di poter vaccinare gli oltre 8 mila fragili della nostra regione. Sì, anche perché ci stiamo lavorando da tre mesi e devo dire che siamo stati la prima regione in Italia a introdurre come fragilità la disabilità. Siamo davvero molto soddisfatti di questo traguardo. Abbiamo stimolato, proposto la regione e devo dire che ci ha ascoltati. Mercoledì otterremo davvero un traguardo meraviglioso e avevamo criticato addirittura il piano della vaccinazione nazionale perché non conteneva la disabilità tra la fragilità. Ricordiamo anche che abbiamo ottenuto un'altra cosa importantissima che è quella di far vaccinare i caregiver degli under 16 e dei disabili che non si possono vaccinare.